Ieri mattina il Città di Teramo ha svolto l'ultima seduta di allenamento al Besso di San Nicolò, tutti in gruppo tranne Oses, che ha lavorato a parte e non si è ancora del tutto ripreso dall'infortunio. Dunque ora due giorni di assoluto riposo meritato per la truppe di Pomante, che riprenderà la preparazione martedì 2 gennaio, in vista del primo impegno del 2024, in programma domenica 7 gennaio alle 14.30 contro il Ponte Vomano dell'ex Cifaldi, insieme ad un altro ex della gara, Touré. Non è ancora ufficiale, ma la sfida del 7 gennaio quasi sicuramente si giocherà al Pigliacelli di Montorio, sede di gradimento di entrambe le società e delle autorità di pubblica sicurezza. Il campo sportivo di Villa Vomano d'altronte può ospitare al massimo un centinaio di spettatori e di conseguenza appare scontata la decisione che la gara si giocherà proprio a Montorio. Anche il Giulianova ripartirà martedì con la settimana di allenamenti, in vista della gara casalinga di domenica 7 gennaio alle 14.30, Alfadini contro la Renato Curi Angolana. È possibile che il tecnico Lucarelli, nel nuovo anno, apporti delle novità tattiche ad un Giulianova in difficoltà dopo il passo falso esterno contro la Torrese e che ora è a meno 6 dal città di Teramo.